Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. In questo video voglio mostrarvi come realizzare un progetto molto semplice, ovvero il copy costume della preview. Su Instagram e Facebook trovate delle foto da poter visionare con più calma. Ad ogni modo il copy costume è composto semplicemente da due pannelli cuciti tra di loro. Vediamo subito quali sono i materiali necessari, un ago appunto per cucire i due pannelli, un uncinetto numero 4 e un paio di forbici. Per quanto riguarda il filato io ho utilizzato questo twisty yarn, è un gomitolo composto al 49% da cotone, 46% acrilico e un 5% di poliestere. Il gomitolo è da 150 grammi lungo circa 450 metri e per una taglia S come quella del progetto di oggi ne ho utilizzato circa un gomitolo in mezzo. Prima di iniziare il nostro copy costume volevo fare una piccola premessa, ovvero come poter adattare a qualsiasi taglia il progetto. Vi basterà fare un piccolo campione e utilizzare il metro. Come vi dicevo sono due pannelli della stessa larghezza sia per il davanti che per il dietro, quindi quasi identici. Avremo solo per il pannello davanti un piccolo scollo che vedremo poi più avanti. Per quanto riguarda il filato, vi ho già detto quello che ho utilizzato, ma volevo farvelo vedere un po' più da vicino. È tutto colorato ed è un po' attorcigliato in questo modo. Iniziamo subito con il nodino e andiamo a caricare 98 catenelle più una, quindi un totale di 99 catenelle. Caricate le nostre 99 catenelle, andiamo a puntare l'uncinetto nella seconda dall'uncinetto, quindi saltiamo questa nella seconda, andiamo a lavorare una maglia bassa. E così come avevamo visto in altri progetti, come ad esempio l'altro copricostume che ho pubblicato poche settimane fa. Puntiamo l'uncinetto in questa asolina, peschiamo il filo, portiamo sul davanti e chiudiamo e questa è la nostra prima maglia alta. Questo nostro primo giro è proprio solo e semplicemente di maglie alte, in questo modo creeremo il bordino inferiore del copricostume. Quindi semplicemente tutto a maglia alta e al termine del giro ne avremo 98. Dal secondo giro inizia la parte traforata del nostro copricostume. Siamo arrivati all'ultima maglia alta, allarghiamo un pochettino il nostro forellino, voltiamo il lavoro, inseriamo nuovamente l'uncinetto, lo puntiamo subito nella maglia, portiamo davanti il filo e chiudiamo come se fosse una maglia bassa. Sempre con l'asolina un po' larga, come abbiamo fatto all'inizio del primo giro, inseriamo l'uncinetto in questa asolina qui, portiamo davanti il filo e chiudiamo. Le prime maglie alte di ogni giro si realizzano in questo modo. Punto successivo, un'altra maglia alta. Ora, due catenelle. Carichiamo il filo e entriamo nella terza maglia disponibile, quindi una, due, tre. E lavoriamo una maglia alta. Nella successiva, un'altra maglia alta. Nuovamente, due catenelle. Carichiamo il filo, saltiamo le due maglie alte successive e andiamo nella terza. Successivo, un'altra maglia alta. due catenelle. Uno, due, nella terza maglia alta. E proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. Il nostro giro si chiude con due maglie alte. Una e due. Ecco qua, e abbiamo realizzato il nostro primo giro traforato. Il terzo giro e tutti quelli successivi si realizzano nello stesso identico modo, quindi alziamo un po' la nostra asolina, giriamo il lavoro, inseriamo l'uncinetto, realizziamo la nostra prima maglia alta, la seconda, e dove abbiamo nel giro sottostante le due catenelle, realizziamo due catenelle. Dove abbiamo le maglie alte, realizziamo le maglie alte. Per questo vi dicevo che è molto semplice da realizzare, non si può sbagliare. proseguiamo in questo modo, fino ad avere 65 giri traforati. Quindi un totale saranno, con questo giro di maglie alte, saranno 66. Quindi catenelle dove abbiamo le catenelle del giro sottostante, in maglia alta, su maglia alta. Già dopo pochi giri possiamo vedere la trama del nostro copri costume, seguendo proprio semplicemente, so che sono un po' ripetitiva, però maglia alta su maglia alta, e due catenelle dove troviamo lo spazio delle catenelle del giro precedente. Arrivati al 65esimo giro traforato, il nostro pannello è finito. Se volete un copri costume un po' più lungo, di ogni modo vi metto le misure specifiche di questo nel blog e nell'info box, potete semplicemente continuare proseguendo per altri giri. Quindi, lavorato il primo giro di maglie alte e i 65 giri traforati, possiamo avviare il secondo pannello. Tuttavia, realizzeremo sempre 98 catenelle, per questa misura, più una. Lavoreremo un giro di maglie alte e ci ritroviamo al cinquantesimo giro di traforato. Eccoci qui, terminati i 50 giri, andiamo ad individuare la metà esatta del nostro pannello. In questo caso avremo 12 quadrati da un lato e 12 nell'altro, segnando proprio a metà con una maglia alta da una parte e una maglia alta dall'altra. Ed ora andiamo a sviluppare quello che è lo scollo. Iniziamo il nostro 51esimo giro e andiamo a lavorare come abbiamo fatto finora, quindi semplicemente i punti così come si presentano, fino ad arrivare al nostro marca punto. Quindi, maglia alta su maglia alta e catenelle di separazione dove abbiamo le catenelle di separazione. Eccoci qui, abbiamo il marca punto, andiamo a lavorare la nostra ultima maglia alta del giro. Quindi questo giro non termina con due maglie alte, beh sì con una. Ora andiamo a diminuire, andiamo ad eliminare questo spazio qui. Cosa facciamo? Allarghiamo sempre un pochino la nostra asolina, voltiamo il lavoro, riprendiamo il nostro filo come abbiamo fatto insomma finora, e andiamo a lavorare all'interno dello spazio delle due catenelle una maglia bassissima, due maglie bassissime, ok? E siamo arrivati qui in corrispondenza della maglia alta. Entriamo, facciamo anche qui una maglia bassissima, allarghiamo un pochettino e andiamo a lavorare la maglia alta così come abbiamo fatto finora per l'inizio di ogni giro. E ora lavoriamo semplicemente le maglie così come si presentano. Quindi maglia alta su maglia alta e catenelle dove ci sono gli spazi delle due catenelle. E abbiamo fatto questa diminuzione. E proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro. E abbiamo concluso anche il 52esimo giro. Il 51esimo era qui dove siamo arrivati al marca punto, questo è il 52esimo. e rifacciamo nuovamente i nostri giri come abbiamo fatto finora. Quindi alziamo un pochettino la nostra asolina, rimettiamo dentro l'uncinetto e lavoriamo le maglie così come si presentano fino ad arrivare alle ultime due maglie alte dove faremo una diminuzione. Eccoci alle nostre ultime due maglie alte del giro e quindi andiamo a fare appunto la diminuzione. Entriamo nel primo, iniziamo a lavorarlo, lasciamo le due asoline sull'uncinetto, carichiamo il filo, entriamo nella seconda maglia alta, portiamo davanti il filo, lo lavoriamo e chiudiamo tutte e tre le asoline insieme. Abbiamo fatto la diminuzione. Così come avevamo fatto per il giro precedente, dobbiamo andare ad eliminare questo quadrato e andare a lavorare le maglie alte successive. Quindi rifacciamo la stessa identica cosa. Alziamo un pochettino, inseriamo l'uncinetto e giriamo. Lavoriamo all'interno dello spazio delle due asoline due maglie bassissime. Una, due. Nella nostra prima maglia alta lavoriamo anche qui una maglia bassissima, allarghiamo un pochettino e ripartiamo con la prima maglia alta di questo nuovo giro. ed ora lavoriamo le maglie così come si presentano. Terminato il giro, allarghiamo un pochettino la nostra asolina e torniamo indietro lavorando i punti così come si presentano fino alla fine del giro dove faremo la diminuzione sulle maglie alte. quindi carichiamo il filo e lavoriamo la diminuzione del cinquantacinquesimo giro. Ora dobbiamo lavorare altri due giri di diminuzione in questo modo. Quindi allarghiamo l'asolina sfiliamo l'uncinetto, lo rinfiliamo le due maglie bassissime nello spazio delle due catenelle in questo modo, la maglia bassissima nella prima maglia alta disponibile e ripartiamo con il nostro giro. andiamo ora a lavorare il cinquantasettesimo giro e qui e qui dobbiamo andare a fare la diminuzione sulle ultime due maglie alte. siamo arrivati alla fine del giro quindi effettuiamo la diminuzione. Ecco qua. Abbiamo finito i giri di diminuzioni ora per il cinquantottesimo andiamo a eliminare sempre quest'ultimo quadrotto e poi non faremo più diminuzioni. Quindi facciamo il nostro lavoro, facciamo le due maglie bassissime nello spazio delle due catenelle e ci posizioniamo sempre con la maglia bassissima in corrispondenza della maglia alta, la prima che troviamo. Ora da questo giro in poi che è il cinquantottesimo fino al sessantacinquesimo lavoreremo semplicemente punto su punto. Raggiunto il nostro sessantacinquesimo giro totale abbiamo finito la prima parte dello scollo. Ora dobbiamo semplicemente ripetere gli stessi identici giri dall'altra parte. Poi potremo procedere con le cuciture del nostro copricostume. Terminata anche la seconda parte ecco come si presenta lo scollo del nostro capo. Quello che dobbiamo andare a fare ora è unire i due pannelli. Per la cucitura io avevo messo nell'elenco dei materiali un ago perché mi trovo meglio nel cucire con l'ago tuttavia potete unire i pannelli tranquillamente con l'uncinetto. Questa è proprio a discrezione. Ora stiamo attenti al fondo del nostro lavoro. Questo è il primo giro di maglia alta che sarà nel capo finito all'esterno del copricostume mentre ora per cucirlo lo lasciamo all'interno quindi mettiamo il primo pannello in questo modo prendiamo il secondo e anche qui dobbiamo stare attenti a lasciarlo all'interno e andiamo semplicemente a sovrapporre i due pannelli in questo modo. Qui per quanto riguarda le spalle andiamo semplicemente a cucire punto su punto è molto semplice da una parte e dall'altra. Dopodiché si procede con il lato lasciando l'apertura per il braccio e cucendo lateralmente. Io ho già chiuso il mio capo vi mostro qui sulle spalle questa è la mia cucitura e ho cucito prendendo l'asola esterna in entrambi i lati quindi solo quella esterna e quella interna rimane in questo modo fa questa piccola cucitura e ho cucito invece lateralmente non so se si vede bene anche qui prendendo insomma un punto da una parte e un punto dall'altro. Quello che ho fatto poi è invece di chiudere completamente il coprico e il costume ho lasciato una piccola apertura. Per quanto riguarda sempre parlando di questa taglia in apertura delle braccia sono 19 quadratini liberi e ho cucito poi il resto fino a lasciare 10 quadratini liberi sotto. Per quanto riguarda la taglia io vi avevo già accennato che questa è una taglia S e abbiamo i pannelli che sono larghi un 43 e mezzo 44 centimetri e a livello di lunghezza siamo a circa 65 centimetri per l'apertura delle braccia ho lasciato 20 centimetri che corrispondono appunto ai 19 quadratini nel frattempo abbiamo visto che c'è un filo che ho dimenticato di tagliare e invece l'apertura diciamo dello spacco sotto sono circa 12 centimetri voi potete naturalmente decidere di non lasciare lo spacco oppure di farlo anche un po' più ampio prima di lasciarvi vi ricordo che vi lascio una serie di foto sia su facebook che su instagram così vedete il capo indossato da mia figlia rende un po' migliore idea vi dico anche che noi abbiamo preferito visto che le decisioni le prendo con chi indossa il capo abbiamo preferito lasciarlo così tuttavia voi potete anche rifinirlo dando un giro a maglia bassa per qualsiasi cosa non esitate a scrivermi sia appunto su facebook o instagram oppure qui sotto nell'infobox spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia di ispirazione non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video ciao ciao